60, 59 Io lo fanno, io lo fanno Mamma mia Siamo lì ragazzi Simo 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 Ma guarda riguardo Simo Simo Vedo lo spumante ragazzi Simo Lo prendiamo Lo sei dimenticato Lo sei dimenticato a casa lo spumante Lo sei dimenticato a casa lo spumante Cosa mano? Ma che mano? Ma va Ma va E qui No, per seconda qua Ma che poche sei calmo Che giuro Che giuro Che giuro Uno a uno al MAPEI Siamo fischi Siamo Si 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 Sip Sì, 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 Se lo meritiamo Siamo qua Ahi mi scudetto Ahi mi scudetto raga Ahi mi scudetto Uh che hanno fatto? Ciao a tutti amici Nerazzurri Tu stai qua ragazzi Tu amo basta Siamo campioni di panghe Travolo I campioni dell'interno Travolo 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 Al campeone dell'interno Travolo Travolo I campioni dell'interno Travolo ¡Masche ritmi, $000! Un hacking Triple At来 Anche Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Raga, che spettacolo. Devasto totale. Non è ancora finita. Adesso ci facciamo un giro per le vie del centro. Ma che spettacolo. Mamma mia. Dopo aver camminato per le vie del centro abbiamo deciso di ritornare nuovamente in piazza, c'era già molta meno gente, e dalla terrazza all'improvviso dal nulla è spuntato a via Zanetti. Guardate un po' il delirio che è successo e guardate soprattutto che spettacolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dio Santa Rosso Nero è! Dio Santa Rosso Nero è! Dio Santa Rosso Nero è! Dal triplice fischio di Reggio Emilia al giorno dopo i festeggiamenti. Siamo di nuovo qua, ma finalmente siamo campioni d'Italia. Dopo 11 anni che aspettavamo questo momento è arrivato. Ieri ci siamo goduti tutta l'atmosfera che c'era a Milano. Questo era il nostro video dei festeggiamenti che ci sono stati in Duomo. Se questo video vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Attivate la campanella per seguire tutti i nostri video e tutte le nostre live. Passate da tutti i nostri soggetti che trovate in descrizione, anche quella del nostro grafico. Noi ci vediamo a un prossimo video, a una prossima live. Ciao a tutti, Forza Inter, siamo campioni d'Italia. Sì!